Al via alla due giorni che apre l'intesa con l'Università degli Studi di Teramo il 17-18 ottobre nell'Aula Magna due giornate di studio, lezioni e concerti dei solisti aquilani. Parte un rapporto straordinario tra solisti aquilani e Università degli Studi di Teramo per un progetto chiamato Solisti in Residenza. Appunto ci sarà la partecipazione nel corso dell'anno di prove e concerti dei solisti aquilani in Ateeo e ad esempio a cominciare dal 17-18 realizzeremo proprio le prove per il concerto che giovedì prossimo, quindi il 20, terremo la Filarmonica di Berlino. Quindi saranno prove, programmi interessanti per sensibilizzare i giovani, i giovani studenti soprattutto della neo-facoltà del DAMS, quindi arte, musico, spettacolo, che si è aperta proprio quest'anno qui all'Università degli Studi di Teramo. Il primo giorno, la prima mattina, naturalmente l'orchestra proverà a porte chiuse per sistemare alcune, chiamiamole difficoltà di natura tecnica. Dopo dal pomeriggio naturalmente le porte sono aperte, quindi gli studenti possono essere presenti, possono interagire con i musicisti, possono appunto rivolgere delle domande, delle curiosità, fino ad arrivare appunto al concerto delle ore 18 del giorno 18.